Abbiamo ottenuto un risultato che consolida la nostra proposta e il nostro progetto, quello di costruire una nuova forza politica davvero riformista, liberale, popolare, che sappia anche rianimare il nostro Paese nella parte della concretezza e della competenza. Oggi purtroppo abbiamo un Paese che ha la prospettiva di un governo di destra, si conferma la fine di un centro-destra perché nella compagine che sarà, con ogni probabilità, il governo di centro non è rimasto più nulla. Ecco, noi ci candidiamo a reinterpretare anche una tradizione più centrista nel nostro Paese. Altrettanto fallito il sinistra, il voto utile e purtroppo ancora un avanzamento delle forze sovraniste, populiste da una parte e populiste dall'altra. Noi con questo risultato, con questo quasi 8%, partiamo con forze, con convinzione, confermati che è esattamente questo di cui ha bisogno il Paese.